Ciao a tutti, dove incontrare la donna giusta? Se vuoi incontrare la donna giusta devi frequentare i posti giusti ovviamente. Io ho organizzato un incontro giovedì 20 aprile a Savona alle ore 20 in un locale che si chiama Pepita che ti darà in questo incontro l'opportunità di conoscere la donna giusta. Ci sono veramente tante donne che partecipano e potrai conoscerne una che come te ha l'esigenza comunque di avere una relazione. Potrai conoscere delle donne single che avranno piacere di socializzare. In questo incontro che si svolgerà in due parti, ci sarà una mia prima parte introduttiva dove insegnerò come sviluppare positivamente la legge dell'attrazione per attrarre l'amore e nella seconda parte ci sarà una pericena dove dei single, uomini e donne, si incontreranno. Faciliterò questi incontri in modo tale che ci possano essere degli scambi positivi tra le persone e avrai la possibilità di conoscere la donna giusta, quella che soddisfa quelle che sono le tue esigenze attraverso il piacere. Perché la donna giusta, la persona giusta è quella che ti aggancia attraverso il piacere, non tanto attraverso la sofferenza. Purtroppo molte persone si innamorano di chi li fa soffrire. E però imparando in questa prima parte le modalità per sviluppare la legge dell'attrazione avrai la possibilità invece di capire qual è la persona, la donna giusta per te. Quindi se vuoi conoscere la donna giusta partecipa giovedì 20 aprile a Savona alle ore 20 in un locale molto carino che si chiama Pepita che è in via del Molo 12 nella zona della Darsena del porto di Savona. Per tutti i riferimenti il numero è 333 15 11 703, comunque tutte le info le trovi nel box. Ti ricordo inoltre che se ti iscrivi al canale YouTube avrai la possibilità di vincere dei corsi gratuiti con me che potrai scegliere se fare dal vivo o se fare via video. Ciao a tutti!